Quando, 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 Tony Rennis Dimmi quando tu erai, dimmi quando, 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 la nozione non è qui, forse tu mi passerai, O un istante attenderò, fino a quando, 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 l'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, Se vuoi dirmi sì, devi dirmi perché, non ha senso per me, la mia vita senza te, Dimmi quando tu erai, dimmi quando, 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 e baciandomi dirai, non si lasceremo mai, Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché, non ha senso per me, la mia vita senza te, Dimmi quando tu erai, dimmi quando, 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 e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai, Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, Sì! Molto bene! Bravo, 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 meraviglioso bianco e nero regalatoci dalla nostra regia, Grazie! Grazie! Mannaggia, bravissimo! Bellina! Grazie! Grazie! Bravissimo! No, veramente, hai preso proprio tantissime cose di Toni, che tra l'altro saluto! Ehm, veramente, proprio carino, delizioso, delicato, veramente fatto tutto molto bene, con grazia! Anche il trucco, questa colla! Diciamo, diciamo, però, però ci sta, perché lui ce l'aveva più affilato del tuo, quindi avevi bisogno di questo aiuto! Bravo! Vincenzo! Sì, anche a me è venuta in mente la parola grazia, perché lui, sì, proprio eri molto aggraziato, perché dato quella vitalità degli anni sessanta che aveva lui in quel momento, era un messaggio bellissimo, di allegria, sei riuscito, poi quello squittio sul quando, bravissimo! Complimenti davvero! Giorgio! Maestro Pirazzoni! Pirazzoni! Pinuccio, Emanuela! Bellini! Bravi! Bravi! No, con la Q! Com'era? Q con la Q! Devi dire Q con la Q! Ecco! Era questo l'insegnamento! Pirazzoni, anche il pezzo delle sue basi da karaoke che anche... Sì, lui le scarica e poi fa le basi! Poi le vende, certo! La delicatezza, perché Tony ha una grande energia, perché la canzone già è comunque molto divertente, divertita, però ha quella delicatezza, quella misura che tu hai preso perfetta! Esatto! Andiamo con Alessandro! Scusami, Giorgio, ti volevo chiedere una cosa... Tu spesso hai imitato Cooling Glesias, c'è qualcosa di Glesias? Quando? 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 Sì, è vero, è vero! Quando? Sì, i capelli sono più di Salemme! Di Salemme! C'è i capelli sui o i capelli di Don? No! Quando le avevi neri adesso muovono! No, ma quelli di Don? Ma quelli di Don? Ma quelli di Don sono i suoi, dici! Quelli di Don sono i suoi, dici! Quelli di Don sono i suoi, dici! Scusa un attimo, voglio provare... Magliusat, puoi rifare l'altra inquadratura, grazie? Sì! Una grande... Ecco, no, volevo vedere... Ecco qua! Ah, ecco! Volevo vedere come era a colori, perfetto! Grazie! Accomodali voi! Ciao ragazzi! Grazie, grazie! Grazie!